Alessandra Cenni, buonasera. Buonasera a voi. E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontare il suo nuovo saggio intitolato Salve Libertà. Pubblicato dalla casa editrice Gammarò, Foscolo Calvo, Solomos e il risveglio della coscienza nazionale. Ed è un sottotitolo molto ambizioso a proposito di risveglio della coscienza nazionale perché attraversa il senso della storia ma attraversa anche la cronaca, anzi la storia proprio di questi giorni. Leggo una risvolta di copertina che Alessandra Cenni svolge attualmente attività di ricerca all'Università Aristotele di Salonico. Tra l'altro ha pubblicato diversi articoli su riviste letterarie internazionali, ha partecipato come relatrice a molti congressi internazionali, ha pubblicato diverse opere drammaturgiche e non solo lavori che sono stati rappresentati sia in Italia che all'estero, ha scritto anche poesie. E l'ultimo libro di poesie che ha pubblicato, questa volta dalla vita felice, è Spumadonde e Scogliera di stelle. Quanto entra la poesia nella sua attività di ricerca, di studio e di scrittura? Alessandra Cenni Beh, la poesia è sempre stata una mia grande passione fin quando ero ragazzina non ho mai smesso di scrivere tantissimo poesia, soprattutto nel tempo anche più come sfogo. Poi è diventato man mano che andava avanti diciamo il mio apprendimento e il mio impegno di studio e mi sono resa conto del peso delle parole, dell'importanza anche soprattutto in tempi recenti, no? Studiando l'importanza della letteratura nei tempi di crisi, per cui non si può rinunciare alla parola come veicolo principale di comunicazione. Quindi anche lo scrivere non può essere qualche cosa come sfogo, come ambizione diciamo per farsi, per vedere il proprio nome in giro su libri, riviste, internet. Ma è proprio a volte anche faticoso e doloroso, soprattutto se si scava nella propria interiorità. Quindi man mano che si va avanti, come pensava il Montaril, che si va avanti nello studio e ci si rende conto che come è anche impegnativo lo studio della letteratura. Quindi non è che si possa più parlare di vocazione perché magari sono termini ormai desueti. Però non sarebbe male se si riflettessi molto che quando appunto si scrive qualcosa è anche una forma di necessità. Cioè anche questi, diciamo, scrivere di storia in questo periodo è molto molto importante. Quindi questi saggi, questi volumi che lei ha citato prima sono estremamente importanti perché richiamare l'attenzione pubblica all'importanza della memoria, sia quella personale, e può essere anche la poesia questo modo di scavare nella propria esperienza personale, ma anche quella pubblica, no? Che è la memoria collettiva di questi tempi in cui tante cose vengono cancellate, vengono rimosse, vengono modificate da un giorno all'altro, da un anno all'altro, insomma, no? Quindi è importante la storia, la nostra storia personale, sì, e quella pubblica. E quindi anche di questi tempi in cui c'è, se stiamo impotenti, insomma, che sono decisioni anche di grandi potenze, al dramma dell'Ucraina. Proponendo questo libro che invece riguarda una vicenda di 200 anni fa, che però non è lontana, nella Grecia, che era stata sottoposta al dominio turco per, dal 1500, per tre secoli, quindi anche una situazione di assoggettamento, di prevaricazione terribile, e la lotta di liberazione dei greci è ancora, è stata la prima lotta di rivoluzione, della prima rivoluzione di un popolo, nel 1821, che abbia avuto successo in Europa, in tempi più recenti. Ecco, questa situazione storica, scusi se la interrompo Alessandra Ceni, è un parallelo importantissimo, perché lei parla della convergenza culturale che c'era tra la Grecia, che si è stata dalla Grecia e l'Italia nel 1800, e questo ci porta inesorabilmente a parlare anche del tempo di oggi, perché le convergenze culturali, qui parliamo tra Grecia e Italia, ma spostiamo subito il nostro sestante nella convergenza culturale tra l'Ucraina e la Russia, ecco, perché quando lei nel sottotitolo parla del risveglio della coscienza nazionale, è certo che è molto importante, è altresì diversa la coscienza nazionale nell'800 rispetto a quella attuale, perché tutto si evolve e cambia, però torno a dire che se non torniamo alla fonte, anche noi come semplici spettatori di quell'evento storico a cui stiamo assistendo, cioè la guerra, ne potremmo capire molto di più se solo entrassimo in quella che lei chiama la convergenza culturale, e come stiamo, secondo lei, oggi, per quanto ci riguarda? Sì, il discorso è molto complesso, e deve essere proprio, come dire, un ritorno di attenzione collettiva e adesso che abbiamo dei mezzi di informazione, cioè la tecnologia può anche servirci d'aiuto in questo senso, se riusciamo a districarci nel mare delle informazioni, eccetera, no? Quindi bisogna dare gli strumenti, già cominciare dalle scuole agli studenti, piuttosto che abbandonarli di fronte allo schermo per delle giornate intere, di intanto utilizzare, cioè fare ricerca nella cultura storica anche del passato, utilizzando diversi strumenti, insomma, che possono rinunciare alla cosa fondamentale che è la storia, che è la fonte, quindi non si può dare credito a delle tesi che poi non sono fondate, e invece molto spesso, e si cominciano proprio i giovani a fare questi errori, danno credito a magari valutazioni, a informazioni che poi si rivelano false. Ecco, quindi noi purtroppo abbiamo anche questa difficoltà a riuscire, come contemporanei attuali, a capire quello che effettivamente sta succedendo. Per poter arrivare a questo bisogna davvero riaprire le pagine della storia anche del passato, la storia d'Europa, la storia dei rapporti della Russia con l'Europa, dei paesi europei, diciamo, e delle ingerenze tra i diversi paesi anche nel appunto del XIX secolo, e anche la nascita di alcuni concetti fondamentali di cui ancora oggi si discute, appunto il concetto di nazione che poi è degenerato nel nazionalismo, che ha portato alla tragedia del secolo scorso. E l'imperialismo, che è un termine anche questo, che poi è stato usato, si è tirato da una parte o dall'altra, ma in fondo è un'ulteriore degenerazione dei concetti di nazionalismo. Cioè considerare appunto che, come era appunto per l'impero turco, di conquistare lo Stato, lo Stato, la piccola nazione greca, no? Che dopo la caduta di Bisanzio, eccetera, aveva perso ogni forza politica. Ecco, quindi il frutto dell'imperialismo, anche in tempo contemporaneo, forse non è, pensavamo di aver messo da parte alcuni concetti che avevano portato a tale distruzione e devastazione nel secolo scorso, che non è stato un secolo breve, appunto. Continua anche nell'oggi, invece ci troviamo davanti certe esperienze che seppure non si possono, come dire, considerare identiche assolutamente, c'è un mondo completamente diverso, però c'è un ritorno, no? Di spettri e di esperienze che se non siamo in grado di distinguere, insomma, no? Nel farsi degli eventi, dei fatti, di quanto avviene all'oggi rischiamo di perdere di vista, ecco, certi concetti fondamentali. Alessandra Cenni, andiamo sull'immagine, per qualche istante, sull'immagine della copertina del suo saggio Salve Libertà, perché quest'opera d'arte ci racconta un tema della libertà. Ce vuole far vedere con parole sue questo quadro? Sì, io ho intravisto il quadro, a me andava benissimo, ho scelto dall'editore, ma va bene, mi è sembrato anche un'immagine piuttosto accattivante, singolare, inusuale. Io ho visto in questa figura svettante di questa angelica con questo fuoco, una sorta di prometeo, no? Che porta la fiamma della libertà, della civiltà, e anche con dei simboli che però sono appunto la refraglazione e la morte, dall'altro il mondo della ragione, che tra l'altro con dei simboli che sono stati quelli poi presi dai movimenti anche carbonari o della filichietteria, insomma, della massoneria che nell'Ottocento aveva avuto una funzione importante come società segrete, visto che non c'era la possibilità, diciamo, di organizzare naturalmente incontri su tematiche di opposizione a quello che le potenze dell'alleanza, insomma, del 1814 del congresso di Vienna, quindi l'unica possibilità di opporsi e di organizzare i moti successivi era quello di società segrete. E i simboli sono quelli che riconosciamo, no? Nella storia di questo movimento che poi nel tempo ha preso altre molto più oscure, oscuri obiettivi, anche in tempi recenti, ma nell'Ottocento ha avuto una grande forza proprio culturale, etica e io ho intravisto questo e quindi mi è sembrato comunque una scelta interessante di questo pensiero ideale, di questa affermazione, diciamo, di una civiltà che mette al centro questa concezione di una nazione sostituita da individui, liberi individui, che sono affratellati da una condivisione di esperienze culturali, storiche, della lingua. Gli aspetti linguistici sono molto importanti perché io parlo di autori che sono Fosco, Locallo e Solo Mosfer, poi principalmente è un sacco di critica, di storia letteraria, che hanno fondato le nuove lingue, la nuova lingua greca, cioè Solo Mosfer ha studiato nelle nostre scuole come cittadino appunto di giovane, di Zacinto, molti greci andavano a studiare in Italia e però ha voluto, pur parlando l'italiano come sua prima lingua, ha voluto scegliere di scrivere in greco, ha fondato la nuova lingua greca, un po' come il Manzoni per l'Italia. Ecco, quindi il fatto di scegliere di parlare la lingua popolare, la lingua del popolo, non quella letteraria ancora legata agli stilemi arcaici del mondo greco antico, ma quella parlata dal popolo è una scelta tipicamente romantica, ottocentesca, su cui si ritrovavano anche i nostri grandi come Foscolo, Leopardi, Manzoni. Ecco, questa è la linea molto importante che è stata data, diciamo, dal romanticismo, che seppur dal mondo classico, perché questi naturalmente sono permeati dei valori, delle atmosfere, del senso etico-estetico, della classicità, questi autori, però, e sono moderni, moderni perché hanno insistito sulla importanza di una lingua letteraria che è basata sulla lingua anche del popolo, quindi non la lingua dei libri, delle accademie, separata dalla vita comune di tutti, ma la lingua parlata effettivamente dal popolo. naturalmente è resa elegante dal fatto che si tratta di grandi poeti. Quindi insisto sul fatto anche di questi tre personaggi, perché anche dal punto di vista psicologico, della loro vita è così diversa l'una dall'altra, a parte il Foscolo sappiamo che è quella vita straordinaria, insomma, sempre uno slancio etico, uno slancio verso la bellezza. Però se conosciamo tutti Ugo Foscolo, credo, Alessandra Cenni, molti meno conoscono Andrea Calvo e Dionisos Solomos, ecco. E c'è un filo rosso che lega queste tre personalità straordinarie della letteratura, ma non solamente dal punto di vista letterario, ecco. Chi erano Calvo e Solomos? Dunque, sono stati altri grandi poeti, dal nostro punto di vista, beh, Foscolo è unico per noi, ecco. Però sono stati grandissimi poeti anche loro e molto vicini alla figura di Foscolo, perché comunque Calvo si è formato proprio accanto a Foscolo perché è stato suo discepolo, diciamo, suo amico, giovane amico con cui ha convissuto a Londra per parecchio tempo e Foscolo l'ha aiutato moltissimo e poi purtroppo c'è stata una vicenda su cui ho indagato perché è interessante dal punto di vista psicologico che se uno ha questa amicizia si è interrotta, si è rotta con grande amarezza per tutti e due, soprattutto per Foscolo che si è sentito tradito e Foscolo che ormai era, diciamo, anche ridotto in povertà, con grandi difficoltà economiche in Inghilterra, costretto all'esilio, come sappiamo, non era in grado di tornare né in Italia perché perseguitato dalla polizia austriaca, né in Grecia perché non aveva i mezzi poi per organizzare qualcosa per cui poter vivere professionalmente in modo autonomo e quindi non poteva più aiutare questo giovane 24enne, 25enne che era estremamente ambizioso. Quindi Calvo è stato un grandissimo poeta che ha scritto delle odi che sono tra le pagine più belle della letteratura dell'Ottocento, raffinatissime, vicino un po' alle grazie di Foscolo e è stato uno scrittore che poi adesso è diventato uno dei fondamenti della letteratura della Nuova Grecia e molto, molto, molto chiuso in sé stesso proprio nel raggiungere risultati alti per la sua, diciamo, esiti letterari molto importanti. Quindi è un po' stile, diciamo, come figura da un punto di vista biografico molto chiuso, molto difficile indagare nella vita di Calvo, però le sue opere parlano di per sé veramente grandissima poesia e le odi sono state pubblicate di recente, poco in Italia, non è molto noto in Italia, anche se tutti e tre sono di Zacinto e quindi anche Calvo ha delle radici molto forti nella cultura italiana, no? E Solomus per me è una figura veramente molto, molto interessante perché era anche lui di un romanticismo più introflesso, no? Mentre Foscolo era molto esibito sul romanticismo, una vita avventurosa, amori, battaglie, un grande coraggio, no? Esistenziale. Solomus è più introflesso, però vive con grande partecipazione e tutte le situazioni politiche apre la sua casa, i patrioti italiani aiuta. C'è questo continuo contatto, scambio tra i patrioti italiani e i greci a proposito delle lotte di liberazione nazionale per tutto l'Ottocento, quindi i greci aiutavano i patrioti italiani e viceversa. Sappiamo che anche tanti volontari erano partiti per la liberazione della Grecia. Solomus quindi si adopera moltissimo. Il titolo che derivi a Salve Libertà è proprio quello dell'inno nazionale greco, tuttora viene sonato in tutte le celebrazioni anche qui in Grecia. E poi era un poeta molto... Ecco, ha introdotto degli aspetti molto interessanti, un po' simili al Manzoni, di aspetti psicologici, ma anche più moderni, sia nello stile, è più moderno del Manzoni oso dire, sia nello stile che negli argomenti. Cioè tocca delle questioni che poi sono state prese più avanti dalla stessa analisi, che avevano a che fare con certe sue esperienze di vita molto dolorose, per esempio il tradimento della mamma, della madre che era una donna giovane, che però era stata forse abusata del matrimonio e quindi aveva avuto forse lui come figlio illegittimo, quindi non lo amava. E lui si è portato dietro tutta la vita questo rimpianto, insomma per questa donna che poi non l'aveva mai amato e che l'ha segnato molto profondamente. Però appunto sono cose che emergono dalle grandi opere che ha scritto, il Lambro per esempio, che viene sempre anche messo in scena molto spesso, che ho visto in teatro, io sono ad Atene ora, quindi vivo molto spesso qui, c'è adesso una rappresentazione dedicata all'Ambro, che è questa opera in cui allude a queste sue vicende personali, molto intime, ma con grande delicatezza e poi grande abilità poetica, drammatica. Insomma, sono tre grandissimi autori del romanticismo che purtroppo, appunto, Calvo e solo Moss non sono molto noti in Italia come meriterebbero, perché purtroppo la letteratura neogreca infatti non è molto praticata in Italia, non è molto conosciuta. Pianse tua patria, o splendidissimi malma, il dì che il tuo partire da lei le spiacque, e pianse poscia, e invidiò la palma, che è italica, e non sua tanto ti piacque. Così comincia l'orazione funebre di Solomoss dedicata a Foscolo. E qui la derivazione dantesca è molto presente, Alessandra Cenni. Assolutamente. La dimensione dantesca è presente in Foscolo ed è presente in Solomoss. E anche come l'immagine di questi Ulisse, no? Sempre, e comunque anche la visione cosmica, umanistica, e questo grande bisogno di riscatto dei valori etici e politici, e sempre richiamo, insomma, la continuità che è stata data nell'Ottocento, e l'attualità della lezione di Dante. E come mai, Alessandra Cenni, lei parla, chiudendo questo saggio, asserendo che in Grecia nasce una nuova letteratura. Questo è un fondamento importantissimo a chiusura di questa breve conversazione. Abbiamo ancora pochi minuti, ma sicuramente la sua sintesi sarà ottimale sulla nascita di questa nuova letteratura. Quindi è un periodo fondamentale. Sì, è una nuova letteratura, perché la lingua greca è una lingua che è in fieri, cioè continua a modificarsi, anche attualmente. È molto interessante a chi si è appassionato di linguistica, tra l'altro, a prescindere dal fatto che è una lingua antichissima, e che come la pronunciano i greci, è il modo giusto, non è quello di Erasmo, ma è interessante, perché è una lingua che non è morta, è viva, perché continuamente si muta. E allora, la nuova letteratura è anche una letteratura che assorbe questi cambiamenti, queste cose che vengono fuori naturalmente dalla modalità di comunicare delle persone, non degli intellettuali di professioni, ma delle persone comuni. Quindi, se vediamo nelle più grandi pagine della letteratura neogreca, c'è proprio l'eco di tutta questa vita così ricca di questo popolo, del suo mare, della sua storia, delle sue leggende, delle sue canzoni, delle sue nostalgie. Quindi è una lingua viva, è per questo che ho detto che si tratta di una nuova letteratura, perché non è una lingua dell'accademia, delle scuole, dell'università, è una lingua viva, che si modifica ogni giorno. Condivido, condivido, Antonella Alessandra Cenni, una citazione da un libro di Francesca Sensini, La lingua degli dèi, L'amore per il greco antico moderno, dove noi abbiamo raccontato tempo fa questo libro, e leggo qui proprio una sottolineatura tra le tante, se amiamo il greco e la sua terra di un amore intero, lo ameremo soprattutto perché non ci parla delle solite cose, perché ci spinge verso altre sponde di noi stessi. È un po' quello che fanno Foscolo, Calvo e Solomoss con le loro parole e che noi abbiamo scoperto in questo saggio intitolato Salve Libertà, pubblicato dalla casa editrice Gamma Roma. Prima di salutarci, Alessandra Cenni, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Dunque, in questi giorni sto rivedendo parecchi libri, parecchi libri, devo dire. Sto rivedendo, anche in particolare sto studiando Rilke, perché io sto studiando molto anche le poesie dell'Antonia Pozzi, una professione danese, di cui mi piacerebbe parlarvi. Lei ha pubblicato un libro dalla vita felice, Il Volto Nuovo dedicato alla straordinaria figura di Antonio Pozzi che spesse volte abbiamo raccontato ma la racconteremo perché merita sempre di essere raccontata, merita di essere conosciuta ma soprattutto merita di essere riconosciuta. Sì, appunto, perché ci sono anche queste pagine della poesia che sono di varie letterature che ci giungono a diversi paesi ma che poi parlano anche una lingua comune e quindi soprattutto ecco quello che riconosco in questi autori che mi piace e che poi ritrovo negli autori più contemporanei e più vicini che amo è proprio questo senso anche etico questa importanza e non voglio cadere nel senso retorico proprio dell'eticità della parola cioè dell'impegno e credo che si tornerà a queste cose perché vedo che c'è proprio una necessità direi nei momenti così di crisi così gravi ecco per le esperienze delle persone quello che si è vissuto in questi due anni quindi proprio c'è bisogno di ritrovare le cose fondamentali ecco e quindi anche il senso dell'eticità della cultura grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Alessandra Cenni e grazie a voi buona serata a presto grazie